Il panorama delle videocamere ha tutt'oggi uno dei più ampi. Si va dalle piccole fotocamere VGA dotate di memoria interna, le professionali che registrano su cassetto hard disk, passando per uno dei segmenti che ha sperimentato il maggior successo, quello delle fotocamere in grado di registrare su schede di memoria SD. Toshiba ha da sempre puntato su quest'ultimo segmento e Camileo S10 è un prodotto che porta all'estremo due dei concetti più richiesti, leggerezza e risoluzione. In meno di 100 grammi gli utenti trovano una videocamera full HD con possibilità di scattare fotografie a 5 megapixel. Dotata di ottica fissa, Camileo S10 offre zoom digitale 4x, connessione USB per la visualizzazione dei file sul PC e la ricarica delle batterie, connessione HDMI per rivedere filmati e foto direttamente sul televisore di casa. Caratterizzata da pochi e semplici comandi è la classica point and shoot da tasca, visto che ha le dimensioni poco più grandi di un cellulare. Basata sul classico design verticale con display orientabile ha sacrificato le dimensioni ridotte e l'ergonomia, ma per vocazione non è certo un dispositivo pensato per registrare lunghi filmati. La Camileo S10 offre la possibilità di registrare i filmati con risoluzione massima pari a 1440x1080 pixel, a 30 frame al secondo. Offre poi altri formati come il 1280x720 pixel, sempre a 30 fps, e il Wide VGA 848x480 pixel a 60 frame al secondo, oltre a formati ancora più piccoli. Qualitativamente bisogna sempre ricordare di avere a che fare con una videocamera super compatta anche nell'ottica, che quindi non può aspirare alla luminosità e alla nitidezza delle lenti di fascia superiore. È un prodotto punta e filma, che fa della compattezza e della semplicità d'uso il suo punto di forza, che permette di fotografare e registrare filmati con qualità superiore a quella dei cellulari quando non si vuole portare con sé sia la videocamera sia la fotocamera.